Uscire dalla segregazione, superare la marginalità, riappropriarsi della libertà e utilizzando le parole con le quali si presenta l'Associazione Nazionale FISH, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che vogliamo lanciare la nuova rubrica del venerdì, inclusione in onda, in collaborazione con gli amici di Sampio, ma ecco, prima di presentarvi i nostri ospiti in studio, lancio la sigla. Dunque, inclusione in onda, un'idea di Serafino Graziano Leuzzi, presidente dell'APS e gli amici di Sampio, un format che ci aiuterà ad entrare nel mondo variegato, complesso della disabilità per favorire, come dicevamo in apertura, l'inclusione più ampia e diffusa. In studio con noi c'è proprio Graziano, presidente degli amici di Sampio. Buongiorno Graziano, bentrovato. Buongiorno a tutti voi. E grazie per questo tuo prezioso contributo, per questa tua bella intuizione. E in collegamento con noi c'è anche l'Avvocato Vincenzo Falabella, presidente nazionale di FISH, come ricordavamo Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, nonché consigliere Cnel. Buongiorno, presidente. Buongiorno a lei e naturalmente buongiorno a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Siamo davvero felici di poter aprire questa parentesi, felici di poter avviare questo percorso insieme, perché parlare di inclusione non è mai abbastanza e quindi ecco, iniziamo questo cammino insieme. Graziano, che cosa ci proponiamo di fare con Inclusion in Onda? Con l'Avvocato noi pensiamo proprio di proporre questo, siccome ci sono dei diritti che molte volte vengono violati, ci sono però delle normative che stabiliscono proprio i diritti dei disabili e noi vogliamo proprio in questo format far rivalere i nostri diritti. Esatto, esatto. Innanzitutto, come diciamo spesso, perché lo facciamo anche su più temi, su più argomenti, per far valere i nostri diritti dobbiamo conoscerli. Ecco, quindi c'è attraverso lo strumento della televisione e anche di Padre Pio TV questo percorso di consapevolezza che ci aiuta ad interpretare meglio il nostro tempo e quindi a viverlo anche meglio. Presidente Falabella, ho detto bene? Sì, ha detto bene, questi strumenti, strumenti interpretativi servono per arrivare nelle case dei nostri concittadini e far comprendere loro che innanzitutto la disabilità non è una malattia, la disabilità è l'interazione con l'ambiente esterno e l'altro aspetto fondamentale è che conoscere i propri diritti significa farli valere. Quindi questi momenti di confronto, questi incontri serviranno per dare un ulteriore servizio alla nostra comunità di appartenenza cercando di far capire quelli che sono i diritti dei nostri cittadini e delle nostre cittadine con disabilità. Perfetto, noi abbiamo detto in apertura che questa rubrica nasce su intuizione degli amici di San Pio in collaborazione con Fisce. Graziano, vorrei chiederti in premessa, appunto in questa puntata introduttiva chi sono gli amici di San Pio? Gli amici di San Pio nascono nel 2021, nascono perché io in prima persona vivo la nostra disabilità per cui ho visto rinecare alcuni miei diritti, per cui nasce da lì il progetto degli amici di San Pio nasce proprio per tutelare i diritti dei disabili e quindi rivendicare quelli che sono i nostri diritti perché poi mi ero documentato che c'erano delle normative, delle leggi che si possono applicare e quindi tutelare le normative dei disabili. In questi anni avete fatto anche svariate iniziative. Io ne ricordo una con molto piacere, Un giorno da chef. Il mio giorno da chef è un format che nasce per... è un format di inclusione sociale e sono dei ragazzi con disabilità che ci mettono in prove con altre persone, con una chef, tipo un master chef. Sono ragazzi con disabilità che si confrontano per il miglior piatto. È nato per gioco, diciamo. Il primo anno è stato difficile metterli a confronto perché c'era la tutela dei genitori, perché non volevano metterli a confronto, c'era la paura. Il secondo anno è andato... quest'anno non si... cioè noi stiamo già... questa è la terza edizione e abbiamo già 130 adesioni. Ah che bello davvero. Quindi è diventato un format veramente grande. Bene, probabilmente mentre parlavamo sarà andato anche in onda il sito ufficiale dell'APS, gli amici di Sampio, gli amici di Sampio.org. Eccolo qua, lo vedo in questo istante alle mie spalle, il sito dal quale possiamo attingere ulteriori informazioni e seguire tutte le attività. Da ieri è anche uscita l'app del nostro sito, quindi c'è una web app. Bene, molto bene. Ecco, invitiamo quanti lo desiderassero a scaricare anche l'app. Presidente Falabella, invece, ecco, soffermiamoci anche su Fitch, due parole per aiutarci a comprendere meglio che cos'è e come funziona la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. È una federazione di secondo livello a cui aderiscono le associazioni nazionali e territoriali di maggiore rilievo. Gli amici di Sampio fa parte della nostra federazione regionale e conseguentemente anche della grande famiglia. Fitch. Oggi siamo un ente del terzo settore, così come è previsto dalla legge 117 del 2017, siamo forse, anzi sicuramente senza il forse, la prima organizzazione nazionale che ha a proprio interno oltre 520 sedi territoriali, il che significa che siamo un'associazione, una federazione nazionale al cui interno aderiscono le maggiori organizzazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità. Molto bene, siamo entrati nell'ultimo trimestre del 2024 e per concludere la puntata di oggi vi chiederei un bilancio su quello che è stato questo 2024 sul fronte della disabilità e dell'inclusione. Ma diciamo che quest'anno è stato un anno importante perché finalmente si è dato corpo e sostanza la legge delega sulla disabilità con l'ultimo decreto legislativo, il numero 62. Siamo prossimi tra qualche giorno al primo G7 al cui interno ci sarà un confronto importante sulle tematiche che riguardano le persone con disabilità, il prossimo G7 si terrà proprio in Italia ad Assisi il 14, il 15 e il 16 di ottobre e poi abbiamo un grande appuntamento, quello della legge di bilancio perché l'Italia scrive norme bellissime ma poi bisogna investire risorse, quelle risorse necessarie e indispensabili a garantire diritti e pari opportunità per i nostri cittadini e per le nostre cittadine come un po' lo prevede peraltro la nostra carta costituzionale. Benissimo, benissimo e credo che già questi possano essere temi su cui soffermarci nelle prossime puntate, Graziano. Quindi dicevamo G7 e... Un approfondimento lo faremo senz'altro perché sarà anche presente al G7 quindi faremo un approfondimento senz'altro. Bene, quindi abbiamo, cari presidenti, cari telespettatori, abbiamo già i temi per, come dire, su cui concentrarci nei prossimi appuntamenti. Detto questo, per oggi giungiamo alle battute conclusive di questa chiacchierata ricordando che la rubrica Inclusione in Onda andrà in onda appunto, perdonate il gioco di parola, tutti i venerdì alle 9.15. Lascio a voi il piacere di un saluto conclusivo ai nostri telespettatori. Saluto a tutti, vi aspettiamo venerdì prossimo per le nuove news sulla disabilità, quindi vi aspettiamo. Presidente Falabella. Ma io più che un saluto vorrei fare un invito a coloro i quali ci stanno ascoltando. Innanzitutto non bisogna avere paura della disabilità e bisogna riuscire a vedere la persona prima ancora che la sua condizione. Questo è un elemento fondamentale proprio per cercare di superare stigmi e pregiudizi a cui ancora oggi purtroppo tanti cittadini con disabilità vivono nella loro quotidianità. E noi condividiamo e sottoscriviamo parola per parola un motivo in più per invitarvi a seguirci ogni venerdì su Just Today con Inclusione in Onda. Io ringrazio i miei ospiti e vi do appuntamento dunque alla prossima settimana. Io ringrazio i miei ospiti e vi do appuntamento dunque alla prossima settimana.